signori cuo vadis baby film di salvadores del 2005 un po grezzo grezzo essenziale però scorre via che è una bellezza non è un capolavoro non è neanche un otto però un sette e mezzo glielo diamo più che volentieri perché alla fine ti tira dentro c'è anche un giovanissimo germano elio germano ci si può guardare e basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un bel like ciao ciao